Ciao a tutti amici e benvenuti nel nostro canale. Oggi è Sant'Antonio e quindi l'onomastico di Antonella Fiordelisi. In occasione di questo, alcuni fan hanno pensato di farle dei regali, tra cui dei capi d'abbigliamento, di una nota marca che ad Antonella piace tanto. Infatti ha ringraziato calorosamente i suoi fan per questo pensiero. Nonostante oggi sia il suo nomastico, la Fiordelisi è impegnata tutto il giorno nella registrazione di un programma a tv dedicato alla cucina. E se nei video scorsi abbiamo pensato a Masterchef o altri programmi in generale di cucina, oggi vi diciamo che una sua fan ci ha suggerito un'altra opzione, ovvero quella della partecipazione a Celebrity Chef in onda su TV8 da circa due anni. Non so se lo avete mai visto, è un programma di Alessandro Borghese in cui due personaggi famosi si improvvisano chef preparando il proprio menù degustazione, composto da tre portate. Antonella è pronta ad affrontare questa giornata di registrazione e noi non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione del programma per vedere cosa ha preparato di buono e che menù ha ideato per i giudici. Commentate e fateci conoscere la vostra opinione e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e condividetelo con i vostri amici. Grazie e a presto!